Tutto pronto? Parti! Per il premio Federico Tesio Dove Budrio si porta in avanti seguito a largo da Chebueno al terzo posto si acquate invece San Marco che precede Tempesti e Sadla Sud che si mantengono in coda al Quintetto, bisogna solo vedere che tipo di andatura ci sarà in testa, se sarà una cosa sonnolenta o se si galopperà un minimo con Budrio che mantiene comunque in leggera evidenza il grigio su Chebueno che è la fianca, al terzo San Marco in giuba bianca con la tracolla al cap viola mentre al suo interno rimane con la supersonica giuba della Dormello Tempesti lasciando in coda Sadal Sud in blu e azzurro, così i cinque come si poteva presupporre non vanno certo a cento all'ora anzi, con Budrio che mantiene il comando delle operazioni, su Chebueno che è secondo, al terzo posto all'interno Tempesti con al suo fianco San Marco, i due pietesi che si curano da vicino con Sadal Sud che rimane sempre in coda al quintetto senza che nulla muti, soprattutto dal punto di vista del ritmo i cavalli, traccheggiando, si avviano verso l'ultimo tratto diretto opposta dove Budrio si mantiene sempre in vantaggio galoppando percorsie piuttosto centrali al suo fianco è sempre Chebueno con Tempesti che è terzo in corda avendo di fuori San Marco e sempre a chiudere Sadal Sud corsa che è ancora ben lungi da entrare nel vivo quando siamo sulla piegata con il grigio Budrio il giovane che è sempre leader su Chebueno che si limita semplicemente ad accompagnare senza spingere niente Tempesti invece è terzo in corda con San Marco al suo fianco e Sadal Sud che segue il tedesco i cinque in quest'ordine quando si affronta la retta d'arrivo gli 800 metri della verità sono quali sempre della pista grande dove Chebueno adesso comincia a farsi un po' sentire al fianco di Budrio Tempesti che va per via interna San Marco avanza con Sadal Sud che rimane in coda i primi quattro sono su di una linea con Chebueno che sembra in calo Tempesti che passa a traguardo lontano San Marco che lo prende sotto tiro Budrio richiesto Chebueno richiesto Sadal Sud più dietro che fatica a intervenire Tempesti in fuga da San Marco che adesso deve essere richiesto al massimo impegno per rubare il tempo a Tempesti che gli era rubato lui e sta allungando Tempesti che scappa via rispetto a San Marco che deve recuperare tanto nell'ultimo tratto Tempesti in fuga sui pidali su San Marco che non può più riprenderlo Tempesti gli ha rubato tutto Tempesti è tornato lui per andare a vincere il Tesio e va a vincere alla grandissima San Marco è solo secondo Sadal Sud è terza poi ancora Budrio e Chebueno Allora un'altra grande soddisfazione per il Team Dormello per gli appassionati per Cristian Nemuro perché immagino che vincere con questa giubba una partner sia sempre qualcosa di speciale avevi qualche dubbio abbiamo parlato anche prima della corsa penso che a 200 dal palo ti sei già messo a cuor leggero raccontacela tu No, sono molto contento è la corsa di Tesio quindi per la Dormello ancora più significato a me è una cosa bellissima mettere questa giubba perché Ribot ha vinto l'Arc in Francia e metterla e portarla fa sempre piacere niente che dire andavano veramente piano oggi quasi la cacciarella dall'altra parte questo ho preferito avanzare subito dietro all'altro palo di Endobotti per poi anticipare un po' lo sprint e lasciarlo aggiustare come voleva lui Allora lasciamo Cristian alla stand innovation complimenti La Coppa la merita anche The Man on Board corteggiato dalla piccola Matilde e accompagnato dalla piccola Matilde Cristian Nemuro complimenti per il successo del Tesio Matilde e Cristian tutti e due però a favore di foto grazie non dimentichiamo che Tempesti è un caratteristico cavallo